Venite al ristorante a Vittoriale, qui troverete pizze, carne alla braccia, cucina tipica Ligure e tanto altro ancora. Siamo in via d'annunzio 302 a San Bartolomeo, perché Sanremo è Sanremo, ma San Bartolomeo è San Bartolomeo. Ma in Iniauto, una delle più vaste esposizioni della Lombardia, dove oltre al prezzo troverete più di 40 anni di esperienza al vostro servizio. Ci trovate a Legnano in Corso Sempione 174. Voi mi chiederete, Renzo, come mai è scritta una canzone sui postini, no? Questa è la domanda adesso. Perché? È una razza in via di estinzione. Ma io, a parte parlare dei postini che non ce ne sono più, ci tofano non solo per le multe, eccetera, eccetera, vi racconto com'è nata la mia canzone. Dimmi che male c'è, siamo un altro come te, l'amore non ha sesso, il brivido è lo stesso, forse un po' di più. Ecco, è quel forse lì che proprio mi è entrato nel cervello e quindi doveva nascere poi il postino. A parte gli scherzi, noi siamo qui, ma devo farvi io, faccio io delle domande o vi racconto delle cose? Potrei raccontarvi che ho lavorato in un nightclub per un bel po' di tempo, ecco. Questo potrei raccontarvelo. Un anno, 365 giorni, mentre le signorine si spogliavano, io ero lì. C'è una signorina che si vuole spogliare così facciamo la dimostrazione della cosa. All'alba vi vincerò. Qui qualcuno già si commuoveva. No, lo fai tu. Mi incuriosisce come faccia parlare la mia canzone, perché davvero ve lo giuro, io non ci ho pensato nemmeno una volta. E io sono d'accordissimo, ma infatti la domanda era questa. Se qualcuno ti chiedesse, e non te lo sto chiedendo, sei omosessuale, pensi che risponderesti oppure sarebbe ancora una cosa che anche da un punto di vista artistico non debba essere detta o non vada detta per questioni di, non lo so, immagine. Ma non è una questione di immagine, è soltanto davvero una questione di tutela nei confronti delle persone che mi sono vicine. Ecco, l'amore è amore, non è che ci sono dieci tipi di amore, cioè non è che c'è l'amore A, l'amore B, l'amore C. L'amore è uno, adesso poi mi dispiace poi cadere nella retorica, ma è così c'è. L'amore è quello, quindi l'amore in ogni sua forma deve essere tutelato. Venite al ristorante Vittoriale, qui troverete pizze, carne alla braccia, cucina tipica Ligure e tanto altro ancora. Siamo in via d'Annunzio 302 a San Bartolomeo, perché Sanremo è Sanremo, ma San Bartolomeo è San Bartolomeo. Mainini Auto, una delle più vaste esposizioni della Lombardia, dove oltre al prezzo troverete più di 40 anni di esperienza al vostro servizio. Ci trovate a Legnano in Corso Sempione 174. Grazie a tutti.